Il totale indegno stato di abbandono in cui versa il giardino Ibleo è uno dei vulnus principali che intacca la città antica e i residenti di Ibla, giustamente, non riescono a farsene una ragione e a poco valgono gli effetti speciali di questi ultimi giorni legati alle installazioni in seno allo stesso giardino del periodo natalizio. Il problema c'era e continua a rimanere, è quanto afferma il Comibleo, il comitato di residenti, che mette a raffronto una serie di foto delle zone più indicative del giardino Ibleo tra prima e dopo, evidenziando come con il trascorrere degli anni la cura nei confronti del sito, considerato un oassi di pace da cittadini e visitatori, si è venuta a diminuire. Mentre da una parte con grande risalto si festeggia giustamente la festa dell'albero, piantando altre senza arbore in città spiegano l'alcomibleo, dall'altra non viene curata la manutenzione dell'esistente, la sostituzione degli alberi essiccati e di quelli rimossi e la piantumazione di altre piante e siepi che arricchivano il giardino Ibleo, vero e proprio fiore all'occhiello di Ragusa. Insomma, una situazione precaria, ferme il comibleo, che ci continua a far preoccupare per non parlare dello scempio attuato a causa del punteruolo rosso, ma siamo sicuri che non potevano essere adottate altre soluzioni? In ogni caso, a parte questo aspetto, c'è una situazione davvero imbarazzante circa la manutenzione che riguarda la villa pubblica per eccellenza della città. Chiediamo quindi all'amministrazione comunale di verificare, anche attraverso le foto storiche, come era un tempo il giardino Ibleo e come è ridotto adesso per adottare gli opportuni accorgimenti e cercare laddove possibile di rimediare. I residenti, conclude il comitato spontaneo dei cittadini, sono stanchi di continuare a subire tutte queste disattenzioni.